il bosch ergomix fresh vacuum ms 6c b61 v1 è un frullatore a immersione di fascia media dotato anche di un accessorio per mettere sotto vuoto gli alimenti ideale per un uso domestico si può trovare in offerta per circa 70 euro se voleste acquistarlo nel box informazione trovate il link nella confezione sono inclusi oltre al frullatore l'accessorio per il sotto vuoto un contenitore da un litro un bicchiere graduato tre sacchetti da 1,2 litri e tre da 3,8 litri per la conservazione sotto vuoto degli alimenti la struttura è piuttosto comune la parte superiore del frullatore in plastica l'impugnatura è rivestita in silicone e segue un design ergonomico mentre il piede frullatore è in acciaio inossidabile e può essere immerso anche in cibi molto caldi questo modello sfrutta anche la tecnologia bosch 4 blade che utilizza una lama a quattro ali affilata e temprata molto resistente e adatta a ogni tipo di cibo anche se il bosch ergomix fresh vacuum è facile da maneggiare va detto che potrebbe risultare un po pesante rispetto ad altri modelli un fattore da considerare prima dell'acquisto per montare e smontare il frullatore è possibile usare un semplice sistema a pressione premendo un pulsante è possibile sganciare il piede frullatore per lavarlo dopo l'utilizzo tra gli accessori sicuramente quello per il sotto vuoto il più interessante anche se non può sostituire una vera e propria macchina pensata per questa funzione è comunque un'ottima alternativa per conservare più a lungo e in modo più sicuro gli alimenti anche se in piccole quantità il nostro test effettuato con frutta secca piuttosto dura ha dato buoni risultati in breve tempo abbiamo ottenuto una polvere abbastanza fine anche se l'assenza di un coperchio può risultare scomoda anche l'accessorio per il sottovuoto è estremamente pratico e semplice da usare basta infatti posizionare il sacchetto come indicato nelle istruzioni e fare pressione sul punto indicato per pochi secondi il bosch ergo mix fresh vacuum è dunque un prodotto ideale per un uso domestico anche abbastanza intensivo anche se il suo peso potrebbe renderlo meno adatto ad alcuni utenti la possibilità di sfruttarlo anche per mettere sotto vuoto diversi cibi rimane comunque un grande vantaggio e può sicuramente rappresentare il maggior punto a favore di questo modello grazie per averci seguito e alla prossima